bentornati divine divine sul mio canale oggi ci occupiamo di una stesa interattiva riguardante proprio questi meravigliosi pazzeschi eventi astrologici che stanno accadendo in questo momento se avete seguito la stesa della volta scorsa siamo la coppia sacra è negli inferi proprio perché c'è marte e venere congiunti c'è proprio la coppia sacra in congiunzione con plutone che il signore dell'ade degli inferi e quindi si scende fino proprio alle profondità nascoste per tirare fuori le ultime ferite per poter poi partire per il mese di marzo più liberi liberi da proprio questi pesi che ancora non si vedevano e questa meravigliosa situazione dico meravigliosa che può essere difficilissima stanno saltando dei lavori lo sto vedendo proprio anche facendo non solo i tarocchi le stese di tarocchi ma facendo tantissimo ultimamente letture astrologiche di coppia e si sta vedendo dove questi con queste diciamo configurazioni astrologiche stanno colpendo proprio in base alla casa il segno che toccano nel tema di coppia e quindi si vedono queste incredibili ferite che vengono su ma si vede anche proprio l'azione degli astri che stanno cercando di eliminare proprio le ferite i contrasti proprio nella coppia sacra e quindi è bellissimo vedere anche proprio dal punto di vista astrologico come funzionano queste situazioni intensissime anche di forti dolori perché tanti stanno saltando dei lavori stanno saltando delle coppie ma sembra che stiano saltando in realtà ci sono solo degli allontanamenti degli alti e bassi proprio per stabilire poi di nuovo un equilibrio per poter poi arrivare un'unione duratura perché se non si arriva a eliminare le ferite che stanno sotto che non si vedono cosa che sta succedendo adesso a questo punto allora non si riesce poi a ottenere un'unione duratura e effettivamente quella che noi stiamo per ottenere almeno tante di noi stanno per ottenere proprio un'unione duratura perché la missione dell'anima si sta svelando sta diventando veramente palese sta emergendo alla luce del sole grazie a questo quest'azione di estrapolazione di trasmutazione delle ferite da parte di plutone e poi oggi invece ci occuperemo anche di mercurio in congiunzione a saturno nell'acquario e questo provoca davvero delle situazioni in cui c'è una situazione karmica saturno il padre del karma ci sta dicendo che ci saranno degli incontri karmici anche qua sarà bellissimo vedere la situazione di questo saturno e mercurio congiunti nella carta della coppia come va ad agire perché ci sono situazioni di diciamo destiniche che vengono fuori vengono portati fuori anche qua delle cose qualcosa di karmico a livello di comunicazione di incontri ci saranno incontri particolari che aiuteranno proprio questa diciamo l'avanzata di questa coppia sacra a livello proprio di sia di comunicazione che quindi ci si parlerà probabilmente verranno fuori anche delle ferite e verranno comunicate tutto per essere tagliato perché saturno il padre del karma è quello che deve essere eliminato grazie anche all'azione di plutone quindi vedete che meraviglia questa situazione astrologica che effettivamente va ad agire come chirurgicamente nelle carte di coppia e andare a vedere come agiscono è sempre una sorpresa ed è una bellezza incredibile adesso ci occupiamo proprio di questo allora intanto come sempre vi invito a mettere mi piace il mio video attivare la campanella e chi vuole approfondire il suo viaggio può contattarmi alla mail nel box informazioni allora ci prepariamo subito per questa stesa mercurio congiunto a saturno comunicazioni karmiche comunicazioni destiniche incontri destinici rivelazioni del karma comunicate vediamo in che situazione nelle fia con le fiamme ci troviamo ecco con queste pazzesche configurazioni astrali che sono di un'energia prorompente l'ho detto tante volte ultimamente e se qualcuno non ha guardato le stese della delle volte precedenti invito a visionarle allora dai cominciamo cominciamo subito a chiedere ai nostri angeli che ci parlino di questa situazione di questa energia legata a saturno al karma che deve essere eliminato ci sono situazioni karmiche che vengono comunicate contatti incontri karmici ma anche proprio a livello di coppie di anime gemelle ma di fiamme gemelle quindi ci possono essere incontri karmici nel senso che le fiamme magari incontrano persone karmiche non nel senso di amore ma persone che possono aiutare veramente a tirar fuori qualche cosa ancora del appartenente al karma perché in questo momento stiamo bruciando e ci stiamo staccando dal passato quindi è possibile che ci siano incontri con persone del passato che ci aiutino proprio a tagliare i ponti con questo passato quindi ci sono incontri ci sono comunicazioni vediamo che cosa sta accadendo per le fiamme gemelle e quindi insomma qua andiamo a vedere ma senza separazione tra maschile e femminile abbiamo visto che ovviamente il maschile e femminile sono interiori quindi in questo momento io non non farei una diversificazione le facciamo una stesa unica e allora chiediamo il nostro ai nostri angeli che ci parlino di questa situazione di saturno e mercurio in in contatto contemporaneamente in congiunzione si dice in già nel nel proprio nel linguaggio scientifico specifico e praticamente cosa succede questo si va a assommare alla configurazione di plutone e quindi le energie sono pazzesche plutone tira fuori saturno taglia e quindi vedete che ci sono veramente delle cose a volte anche non semplice da gestire proprio a livello energetico anche livello proprio di di equilibrio fa saltare gli equilibri ma proprio questo che deve fare proprio perché l'equilibrio ritrovato deve essere ancora più forte più solido di prima e quindi non vi preoccupate se in questo momento sentite che saltano gli equilibri anche tra voi fiamme perché questo è il momento proprio il momento del ripulire l'abbiamo visto nelle stese precedenti ripulire tagliare e quindi è proprio questo il il messaggio di plutone congiunto marte venere congiunto e saturno congiunto mercurio eccetera quindi andiamo subito a vedere allora vediamo un po la situazione della della delle fiamme in questa per quanto riguarda queste tensioni anche energetiche andiamo subito a vedere qua allora situazione attuale che cosa provoca questa situazione e come va a evolvere ok vediamo un po parcano maggiore energia degli astri consiglio degli angeli allora allora voi non lo vedete tutti ma poi ve lo faccio vedere ok e poi infine la carta del maestro il messaggio del maestro vediamo un po vediamo un po la prendiamo di qua perfetto e andiamo subito a svelare che cosa sta accadendo in questo pazzesco periodo di cambiamento di 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 allontanamento crollano tutte le situazioni karmiche quindi tutto ciò che ormai fa parte del karma viene eliminato si eliminano cose che appesantiscono per poter partire più verso la nuova vita la nuova vita delle fiamme e liberi proprio dai pesi del karma allora andiamo subito a vedere qua che cosa ok serendipità è certo è quello che ho detto destino in azione nove conclusioni di fasi di destino in azione e quindi che cosa ci sta dicendo che questo karma sta agendo saturno padre del karma sta agendo proprio come forma di destino di destino karma che va a concludere delle situazioni che ormai sono terminate vedete che questa persona si libra in volo e quindi si lascia alle spalle tutto ciò che è la pesantezza la pesantezza del karma quindi si va veramente verso l'eliminazione di tutti i pesi karmici perché il lavoro è stato fatto vengono ancora alla luce grazie a plutone ancora le ferite nascoste quindi un momento ancora probabilmente per tanti non per tutti perché alcuni stanno venendo fuori delle ferite ma sono ferite ormai diciamo quasi rimarginate comunque abbastanza piccole diciamo leggere altre invece stanno affrontando delle situazioni un po più pesanti dipende un po dalla situazione del viaggio di ognuno ma per tutti c'è l'eliminazione della pesantezza del karma quindi tutto quello che emerge viene tagliato e ci si sente più liberi energia e voilà dead and magic questo è il cosignificante di plutone quindi sta venendo fuori grazie all'azione di plutone qua ci sta dicendo che ci da poi anche un 11 proprio come 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 somma mi sta dicendo che c'è proprio in vista proprio dell'unione di fiamma qua c'è il morire e il rinascere la trasmutazione ed è proprio quello che sta accadendo quello che stiamo dicendo relativamente proprio queste situazioni energetiche incredibili di questo periodo allora andiamo a vedere che cosa sta accadendo caos e contrasto certo c'è un caos e contrasto che sta emergendo proprio perché vengono fuori queste ferite ci sono allontanamenti ci sono a volte situazioni di tensione c'è il contrasto c'è un po di caos ma è tutto in vista del 3 3 questa è l'unione unione e armonia quindi vedete che tutto concorre all'unione di fiamma però è un momento intensissimo un momento intensissimo perché queste situazioni vengono alla luce devono essere trasmutate quindi ci possono essere delle situazioni in cui invece di armonia noi sentiamo invece caos e contrasto ma questo abbiamo detto che nel cammino dell'anima per le fiamme proprio un eliminare arriva arrivare a disequilibrare per trovare un nuovo equilibrio allora andiamo a vedere secrets e infatti verranno fuori dei segreti c'è qualche cosa plutone mi sta dicendo plutone è quello che proprio svela le cose nascoste ci sono i segreti verranno alla luce dei segreti è proprio per questo che ci sarà caos e contrasto ma tutto questo sarà utile proprio per poter eliminare ciò che invece non era visto e non ci si rendeva conto di avere e quindi per 4 qua c'è un bel materializzare qua ci si si svelano segreti per trovare a livello materiale una nuova unione una nuova armonia un nuovo equilibrio quindi è un momento incredibile momento intensissimo intensissimo quindi non stupitevi se nella vostra unione di fiamma c'è qualche cosa ancora che traballa ma non sta traballando perché non è sicura sta traballando perché deve trovare un equilibrio superiore e un equilibrio più stabile e andiamo a vedere come si risolve rigenerazione voilà si trova davvero un quattro c'è un sei un quattro che mi parlano di un uno l'uno ci parla di identità identità di coppia e quindi si trova un nuovo un nuovo noi stessi proprio come fiamme e quindi si rigenere guardate qua c'è il proprio il morire morire rinascere segreti che emergono e qua c'è proprio la rigenerazione quindi non preoccupatevi di questo periodo se avete ancora delle difficoltà se ci sono dei disequilibri se ci sono delle tensioni se la vostra fiamma ogni tanto si chiude in se stessa se la vostra fiamma ogni tanto si allontana non preoccupatevi perché c'è la rigenerazione si risorge dalle proprie ceneri ed è proprio il senso di plutone guardate che è importante che è la situazione attuale ed è proprio quello che si sta dicendo proprio anche plutone agisce in questo modo e saturno taglia quindi ci saranno veramente comunicazioni rivelazioni contatti incontri importanti che porteranno alla luce proprio queste cose queste cose segrete ma non perché ci siano dei segreti da nascondere ma qualcosa di segreto nel senso che non è alla luce del sole quindi non è consapevole tutto viene alla luce per dare consapevolezza identità a una nuova identità quando uno dice io so che cosa siamo questo è il morire morire rinascere perché rinasci più forte di prima vediamo l'energia sicurezza e guardalo qua 10 sicurezza la sicurezza proprio l'identità di quello che è rinato quindi la forza della consapevolezza di ciò che è morto e cosa si è tenuto perché si è tenuto tutto quello che è morto è quello che doveva morire e quindi doveva essere abbandonato doveva essere rilasciato e quindi c'è la sicurezza di essere veramente tornati alla vita più forti di prima e ormai liberi dalla schiavitù del karma pensate che meraviglia allora consiglio degli angeli organizzazione sei concentrato sui tuoi progetti ma otterrai risultati migliori se aggiungi un po' di organizzazione e disciplina al tuo modo di agire le chiavi del successo sta permettere alla creatività di farsi guidare dolcemente dalla logica pensate che meraviglia qua è proprio veramente lasciare che la creatività venga portata alla luce proprio anche dalla dall'azione dalla parte materiale dalla logica quindi non è negativa la logica la logica è meravigliosa se al servizio della creatività quindi dello spirito preparati a chiedere aiuto a chi ha una mente molto razionale cerca un mentore quindi qua in questo momento è importante che non ci si perda in queste situazioni emotive fortissime quindi cerchiamo di razionalizzare ma nel senso non egoico ma nel senso di mettere la ragione al servizio dello spirito quindi quello che sentiamo le emozioni cerchiamo di dargli il giusto peso perché in realtà ci stanno portando davvero a materializzare la materializzazione e però devono essere viste queste cose quindi guardarle con gli occhi non della paura ma degli occhi con gli occhi di chissà di chissà di aver contattato la propria anima di aver compreso di essere ancora ferita e che questa ferita deve essere rimarginata non deve essere rifiutata perché se si viene rifiutata viene di nuovo immersa nella melma e quindi non è visibile e quindi praticamente farà saltare l'unione in un secondo momento ciò che non si vede quello che non è rivelato fa saltare poi l'unione successivamente quindi è meglio che venga tutto eliminato adesso e venga la luce e anche un po' razionalizzato con un giusto mezzo qua ci dice utilizziamo creatività e logica insieme quindi qua ci dice l'unione che crea che crea la materia meraviglioso fantastico allora andiamo subito subito a chiedere qualche precisazione su questo che cos'è che arriva di carmico che cosa arriva di destinico che porta questa situazione astrale a morire e a ripartire ok allora qua c'è il essere mirati ad andare e ad agire in base proprio a un femminile un femminile imperatore agire mirati proprio il focus mirati per portare all'azione del desiderio perché è un desiderio dell'anima quindi qua c'è veramente il mostrarsi il desiderio dell'anima e perché il desiderio dell'anima è quello delle della forza e che cosa che cosa provoca questo è il fondo mazzo andare qua la serendipità qua il che cosa muore e rinasce qua ci sono delle situazioni di contrasto qua c'è un fondo mazzo che mi sta dicendo che la situazione di base è l'emergere di situazioni di contrasto che noi andiamo a combattere grazie al contatto con un femminile imperatore imperatrice ci muoviamo perché sapendo che l'anima che guida e quindi quello che vi dicevo prima è agire quindi azione maschile in base alla conoscenza dell'anima quindi queste situazioni vengono viste con la giusta e col giusto equilibrio quindi vengono analizzati che problemi ho come mi sto sentendo cosa devo fare ma ascoltando l'anima e poi mettendo in azione la parte ovviamente maschile quindi la la materia e a questo punto però che cos'è che guida un imperatrice che è un femminile che guida un'azione fisica allora andiamo a vedere un attimo allora una specifica su questo vediamo i nostri angeli che ci guidino in questa meravigliosa situazione astrale certo ci possono essere ancora delle situazioni che emergono appunto situazioni di diciamo in cui si sente forse un po' tra virgolette la la tentazione di correre un pochino l'abbiamo detto ci si allontana eccetera ma non è più un allontanarsi perché non si è consapevoli qua c'è davvero qualche ferita che riemerge quindi ci può magari cercare di sviare un pochino dalla situazione intensa che c'è però però ovviamente c'è tutto in una piena consapevolezza quindi in realtà qua ci si rende conto di stare un pochino svicolando dalla situazione no quindi ci si allontana un pochino magari magari il contatto si fa leggermente meno intenso tra le fiamme appunto c'è queste situazioni karmiche che arrivano e possono magari in un certo senso sembrare che ostacolino ma in realtà la piena consapevolezza delle fiamme ormai c'è e quindi che cosa accade che queste ferite vengono viste vengono viste da un femminile imperatore e infatti c'è la trasmutazione la magia io vedo e opero la magia dell'anima che spettacolo e infatti c'è proprio il risolvere queste situazioni karmiche che arrivano che possono essere anche incontri con persone del passato quindi ci possono essere persone che arrivano che sembrano no che ti attirino l'attenzione eccetera no in realtà sono semplicemente dei residui karmici che probabilmente non erano stati eliminati con grazie a questi incontri di saturno quindi questi incontri queste comunicazioni questi messaggi ci possono essere anche dei messaggi che tirano fuori delle ferite qualcosa ancora non dimenticato e quindi alla fine sembra che ci sia questo svicolare tra virgolette no quindi c'è una situazione in cui sembra che ci sia il voler in un certo senso scappare dalla situazione in realtà non è così semplicemente sono situazioni che vanno ancora viste per essere eliminate perché c'è una piena consapevolezza di un maschile di un femminile fortissimi un femminile un imperatore quindi il maschile per forza non può non può che mettere in atto delle azioni da imperatore e quindi c'è infatti la risoluzione di tutto questo allora andiamo a vedere ancora una specifica su questo chiediamo un attimo no volevo le carte queste qua dell'amore vediamo un po qua le situazioni carmi che potrebbero ancora venire quindi non vi preoccupate assolutamente infatti qua c'è il pensiero qua c'è il riflettere qua c'è una situazione in cui ci si entra nel proprio nel proprio profondo per capire cercare di capire proprio queste situazioni che aiutano e infatti vediamo vediamo un po ok ok si possono ancora venire fuori delle situazioni che erano diciamo che sono state magari materialmente concrete nel passato riguardo a adesso qua mi viene fuori la regina possono essere anche persone del passato donne del passato che contattano che creano questa tensione in realtà non c'è alcuna tensione perché la tensione in realtà non è altro che un residuo carmico che deve essere visto e deve essere eliminato vediamo un attimo la specifica su questo e infatti ci sono dei pesi del passato quindi non sono situazioni che possono minare l'amore assolutamente perché ci sono gli amanti l'innamorato e l'innamorata è quello dell'amore sacro e infatti si concludono dei cicli carmici praticamente c'è proprio la conclusione di dipendenze anche psicologiche psicologiche che portano veramente a eliminare eliminare tutto ciò che è ancora il peso del passato quindi ci possono essere qua dal punto di vista sia maschile che femminile ci possono essere persone del passato che ritornano perché devono essere eliminate non perché c'è amore assolutamente perché il centro di tutto è invece gli innamorati gli innamorati quelli veri quelli sacri che eliminano con la forza del loro amore queste situazioni carmiche e via e poi le concludono e infatti c'è la forza tutte queste situazioni vengono concluse assolutamente c'è il sigillare quindi sono momenti incredibilmente importanti non lasciatevi prendere dal panico anzi il femminile deve essere più che mai solido solido perché deve dare la forza al suo maschile fargli capire che la sua forza non viene incrinata in nessun modo da questo karma che ritorna perché lei è padrona, lei è imperatrice quindi attenzione a non lasciarvi andare qua ci sono secrets, qua c'è causa e contrasto qua ci sono probabilmente anche qua davvero situazioni ok, ok che possono ritornare magari di persone del passato ma chi c'è, cosa c'è qua mi sta dicendo che gli innamorati cominciano a una nuova vita grazie all'amore sacro qua c'è gli innamorati sono le persone allora queste qua le abbiamo concluse quindi tutta questa parte di 9 caos e contrasto mi sta parlando di persone che ritornano qua mi sta parlando di caos e contrasto che è derivato da questo ma e che riporta all'armonia c'è un ritrovato equilibrio grazie a questi segreti questo capire che cosa si capisce che cosa emerge emerge proprio l'importanza degli innamorati gli innamorati della coppia sacra ovviamente che portano alla nuova a una nuova situazione di amore sacro quindi c'è veramente l'emergere la materializzazione di questa nuova unione qua dice mi parla di unione materiale di che cosa? degli amanti, della nuova vita e dell'amore sacro quindi qua c'è davvero l'unione sacra che diventa materiale proprio perché si è concluso tutto questo è una meraviglia è una meraviglia perché effettivamente è una situazione anche dolorosa non cadete nella tentazione di far saltare gli equilibri ulteriormente perché sono prove sono prove carmiche ma voi siete talmente forti avete lavorato talmente tanto che siete in grado con la forza con la forza della vostra unione di concludere tutte le situazioni del passato e infatti guarda qua doppio amore sacro cos'è che viene da questo contrasto che viene di nuovo a portare l'unione materiale di questo amore di una nuova vita di una nuova situazione d'amore l'amore sacro c'è in doppia carta quindi pensate che meraviglia benedite in un certo senso tutto quello che ritorna in questo momento tutte le situazioni che possono essere anche non persone ma situazioni anche comunicazioni sono situazioni che vengono fuori proprio perché devono creare questo contrasto devono eliminare il peso questo peso che ancora non si vedeva erano probabilmente ancora degli attaccamenti psicologici non d'amore ma di karma e quindi viene questi residui vengono eliminati grazie alla forza e si ritrova dopo questo caos e contrasto quest'unione unione e materiale amore sacro qua ci sta parlando proprio del doppio amore sacro gli amanti nuova situazione amore sacro quindi qua davvero da questa situazione scaturirà veramente l'unione che abbiamo detto poi essere diciamo più visibile l'azione dell'anima la missione dell'anima visibile proprio nel mese di marzo e voilà c'è la regina la regina dei desideri il femminile che poi trascina davvero con la sua forza l'unione del del maschile scusa l'azione del maschile allora andiamo a vedere voilà qua c'è davvero la forza dell'amore qua c'è l'amore che diventa materia e comincia davvero una nuova situazione quindi benedite tutto quello che viene in questo momento perché vi porta veramente attraverso il caos e contrasto a una nuova materializzazione dell'unione un'unione concreta dell'amore sacro e comincia davvero una nuova situazione una nuova vita andiamo a vedere la rigenerazione allora qua c'è l'identificazione qua doppia carta sul 10 che mi parla proprio di identificazione di nuova vita perché si è trovato un'identità nuova dalla rinascita questa rinascita allora vediamo un po' qualche specifica su questo eh sì che guida veramente la consapevolezza il mondo il mondo il mondo qua c'è davvero e vediamo un po' di che cosa ci parlano queste consigli ok ok qua mi dice le paure le paure cosa vanno vanno vengono assolutamente allora questa situazione ci parla proprio di una consapevolezza incredibile di tutto quanto c'è questa rigenerazione si trova l'identità di coppia tutto quello che è paura che è karma viene riequilibrato qua c'è l'equilibrio perché ci parla ci parla glielo schiaffiamo sopra c'è l'equilibrio materiale di tutto questo quindi in realtà tutto quello che può essere paura tutto quello è vinto è vinto perché è in mezzo al mondo ed è in mezzo proprio alla materia l'equilibrio materiale sette di denari andiamo a vedere una specifica di questo quindi via le paure non vi preoccupate perché vincete attraverso proprio l'unione sacra la pienezza dell'amore vince tutto assolutamente c'è l'equilibrio d'amore c'è un equilibrio materiale c'è proprio l'identità e l'unione proprio d'amore si raggiunge tutto attraverso questa situazione e c'è di nuovo l'imperatrice guardate che meraviglia qua c'è un femminile incredibile un femminile che ha una potenza stratosferica e quindi sta guidando il maschile all'azione l'abbiamo visto qua la creatività ha bisogno di logica per essere mandata avanti quindi qua c'è un femminile che aspetta praticamente l'azione del suo maschile non che l'aspetta nel senso che si integra con l'azione del suo maschile ed è proprio la materializzazione in questo senso e infatti c'è l'inizio veramente fisico di una nuova situazione mamma mia che carte spettacolari e quindi il momento è ancora incredibilmente intenso dal punto di vista veramente delle emozioni stanno venendo fuori delle emozioni e ci si lascia proprio le spalle tutte le ferite tutto ciò che è stato attaccamento viene eliminato allora vediamo un attimo si si viene eliminato proprio da una da una volontà il desiderio di veramente cominciare tutto quindi si comincia davvero c'è un 10 10 10 10 guardate qua quanti 10 10 10 10 10 10 10 c'è pazzesco qua ci parla veramente di nuovo inizio libero dai pesi del karma quindi io vi direi davvero se in questo momento siete preoccupati perché c'è una situazione difficile di nuovo sembrava equilibrata invece adesso si dice equilibrata non vi preoccupate perché è doveroso c'è il karma in azione contatti incontri tutto di karma che viene emerge dal dal passato perché deve essere eliminato allora vediamo un attimo l'arcano maggiore che sovrintende la stesa guardalo qua questo è l'aiuto del cielo l'aiuto degli angeli l'aiuto dei mondi spirituali è su di noi ci siamo siamo guidati siamo amorevolmente guidati e qua c'è il padre delle fiamme ovviamente che ci sta guidando e abbiamo detto che c'è proprio il mondo spirituale questo è il padre delle fiamme è proprio l'energia delle fiamme che ci sta guidando ci sta sostenendo non dobbiamo temere nulla anzi dobbiamo ringraziare questo karma che ritorna per essere eliminato allora le parole del maestro vediamo un po' non ti abbandonerò guardalo qua ti sarò sempre vicino e guarda qua non siamo abbandonati siamo sostenuti siamo veramente immersi in una meraviglia meravigliosa situazione di trasmutazione di rigenerazione e ne usciremo ancora più uniti più forti di prima probabilmente per molte di noi uniti definitivamente su tutti i piani quindi attenzione che è un momento incredibile non vi preoccupate delle diciamo delle oscillazioni del momento perché sono provvidenziali è proprio tutto sta anche tutti questi pianeti tutte queste configurazioni stanno lavorando per l'unione delle fiamme quindi pensate che l'universo sta lavorando per noi più di così veramente è di una bellezza incredibile direi ancora il consiglio pratico degli angeli vediamo un po' ok visualizza il successo e voilà anche qua visualizzare e proprio mettere in organizzazione visualizza di risolvere questa situazione confida in un esito positivo quindi davvero avere la fede la fede perché sappiamo che è già successo in realtà noi siamo già uno e lo stiamo manifestando in questo momento preciso di questa in questa diciamo situazione storica a tutti i livelli stiamo materializzando un inizio meraviglioso di una nuova vita e quindi dobbiamo essere assolutamente via le paure qua abbiamo detto che possono emergere le paure vengono subito eliminate subito eliminati da un'imperatrice una femminina imperatrice che porta proprio a diciamo segnare la strada come dicono qua gli angeli perché il nostro maschile intervenga e metta nella materia la creatività quindi il femminile si è messo nella materia dal maschile quindi ci sia unione a tutti i livelli io con questo vi saluto vi do un grande abbraccio vi do l'appuntamento alla prossima stesa grazie sempre di seguirmi e se se vi è piaciuto il video mettete mi piace attivate la campanella e per chi vuole può contattarmi alla mail che trovate nel box informazioni un abbraccio grazie a tutti